Un momento sentamente importante che consentirà, in previssimo tempo, di ampliare il centro formativo dei Gigi del Fuoco di Iterni, facendo appunto la città di Iterni un punto centrale nella formazione del Corpo Nazionale dei Gigi, appunto in Umbria che è al centro dell'Italia, ma anche con le strutture logistiche in grado di ospitare il personale del corpo che è fatto. Grazie.